narrativa italiana abbiamo parlato di paolo cognetti le otto montagne una rivelazione un libro che si svolge tutto sulla montagna ma non è un libro di montagna retorico tutt'altro adesso c'è quest'altro romanzo che si intitola il giro del miele di sandro campani anche questo romanzo come l'altro edito dai naudi c'è come un cambiamento in atto forse perché dopo tanti romanzi urbani che mettevano in scena la nevrosi urbana adesso c'è questa tendenza forse di raccontare anche un mondo più provinciale di montagna più appartato con grande verità però sempre fuori di retorica questo romanzo si intitola il giro del miele perché c'è dentro anche conta la passione per le api e poi la consegna del miele che se ne ricava e quindi la natura poi c'è anche siamo nell'appennino nell'appennino emiliano quindi montagne fra le colline montagne piccole piccole comunità la provincia dell'appennino ma una provincia ancora ancora genuina bella e poi c'è anche il lavoro sul legno perché c'è un cappannone di falagnameria c'è una famiglia che si occupa del legno quindi legno le api e poi di notte c'è forse una lince che qualcuno ha visto nel bosco e questa lince può essere la metafora dell'imprevisto dell'inconscio del destino chi lo sa fra paura e attrazione ma soprattutto poi c'è la narrazione molto viva di un intreccio un po familiare ci sono due amici uno molto più anziano l'altro molto più giovane giampiero l'anziano che accoglie in casa una testa un po matta davide che che li considera un po come un figlio davide molto ferito ammaccato dalla vita ma i due si ritrovano lì davanti al fuoco tutta la notte a mettere legni e avere piano la grappa e a chiarire delle cose a regolare dei nodi esistenziali giampiero è sposato con ida un matrimonio felice ida sta dormendo al piano di sopra non hanno potuto aver figli e questo davide lo considera un po con lui con un senso di paternità davide a sua volta ha avuto un rapporto difficile con suo padre il falegname anche giampiero un falegname e poi ha avuto un grande amore per silvia però forse questo amore si è rotto e allora tutto questo gioco viene spiegato con il desiderio durante tutto il romanzo di chiarire ciò che sia potuto accadere e ciò che forse potrà accadere questo chiarimento davanti al fuoco e davanti a una bottiglia di grappa ci disvela una storia umanissima con tante difficoltà nei rapporti padri figli spesso nei rapporti uomo donna e ci sono anche momenti di dolore ma c'è anche il tentativo quieto piano con qualche livido addosso ma di ricostruire un'attenzione alla bellezza alla bellezza della vita insomma alla consolazione delle cose che contano dopo dopo mille rovesci un romanzo notevole che dimostra che anche in italia la narrativa che pur ogni tanto ci dà dei libracci sa ogni tanto sortire delle buone prose che fanno che fanno sperare in bene su questo genere il romanzo italiano il giro del miele sandro campani edito da einaudi grazie a tutti grazie a tutti